vedendo bruciare perché hai cambiato idea e non ti farai cremare commento perché presso il punto f i maestri hanno ribadito che il trapassato soffre vedendo bruciare il suo corpo fisico a cui è ancora legato emotivamente come già è stato detto in altri luoghi ma hanno anche aggiunto che vivere il piano fisico significa viverlo senza distruggere nulla e la cremazione e la distruzione del cadavere